Cantieri regionali di lavoro riaperti i termini per consentire ai cittadini senza occupazione di potersi iscrivere alle graduatorie. La media degli incarichi sarà di circa due mesi, previsti compensi per 900 euro mensili. Le città di Palermo, Messina e Catania non saranno interessate dalla riapertura delle iscrizioni tenuto conto del fatto che le graduatorie del 2018 non siano ancora state esaurite. Potranno iscriversi i cittadini che al momento risultino essere disoccupati o inoccupati di età compresa tra i 18 e 67 anni non compiuti. Sarà inoltre necessario aver presentato la dichiarazione di disponibilità e aver sottoscritto il patto di servizio presso il centro per l'impiego competente per il territorio. La legge prevede per ogni graduatoria una riserva del 10% in favore di chi abbia scontato una pena carceraria o sia stato dimesso da comunità o centri di recupero dalle tossicodipendenze o dall'alcolismo. Chiunque si fosse iscritto alle graduatorie del 2018 non potrà ripresentare domanda di ammissione. Si potrà ricandidare soltanto chi abbia rinunciato alla precedente selezione o chi in riferimento alle stesse liste non abbia maturato i requisiti previsti. La domanda di iscrizione alle graduatorie potrà essere presentata fino a mercoledì 30 giugno. Questi i documenti da presentare. Il modello di domanda compilato, l'autocertificazione del proprio nucleo familiare, entrambi scaricabili sul sito della regione siciliana, la copia di un documento di identità valido, solo chi ne ha diritto dovrà presentare la certificazione per fruire della riserva del 10%. Per quello che concerne la presentazione della domanda queste le due modalità. In presenza, a causa delle misure sanitarie per la pandemia da coronavirus, sarà possibile essere ricevuti presso i centri per l'impiego solo ed esclusivamente su appuntamento. Per prenotare sarà possibile inviare un'e-mail o contattare telefonicamente i centri che a loro volta comunicheranno giorno e ora dell'appuntamento e nominativo dell'operatore di riferimento. Anche per poter ritirare i moduli o chiedere informazioni in presenza sarà necessaria la prenotazione, consigliato scaricare e stampare i moduli disponibili online. E poi la seconda modalità ovvero quella digitale. Sarà possibile inoltrare la richiesta di ammissione inviando via mail la documentazione ai centri per l'impiego fornendo i propri dati anagrafici, incluso il codice fiscale e un proprio numero telefonico in modo da poter essere ricontattati. I moduli andranno compilati e scansionati. E sempre sul sito della regione siciliana sarà possibile consultare la lista dei numeri di telefono e degli indirizzi e-mail dei centri per l'impiego disponibili.